Il vantaggio è uno ed è enorme, è quello di assicurare la transizione della finanza, tutta la finanza, dal passato al futuro. Open finance vuol dire libera circolazione dei dati, regolata ovviamente ma libera, di modo che i bisogni di chi domanda servizi e prodotti finanziari e i desideri e le ambizioni di chi offre prodotti e servizi finanziari si incontrino migliorando molto la qualità di questi servizi e prodotti, quindi facendo sia il vantaggio dei clienti, dei consumatori, sia quello degli offerenti che possono attraverso una offerta più personalizzata guadagnarci di più. Il vantaggio fondamentale è questo, in realtà non è un vantaggio, è la storia che marcia in quella direzione. Aprire la finanza vuol dire proiettarla verso il futuro. Grazie a tutti.